I nostri figli, i nostri dicochi! E allora le chiedo due cose in particolare. Perché non ha assedito dentro si dè l'esigenza di comunicare alla città, ai genitori, le ferifiche dei sopralluoghi delle scuole? E perché non è stato attivato il centro operativo comunale, visto che lei, autorità di protezione civile, è visto che Marano è comune capofilla? Grazie!